Sì, penso che abbiamo fatto una prestazione veramente di alto livello, anche sotto l'aspetto qualitativo, che siamo riusciti quasi sempre a giocare, siamo venuti fuori sempre dalle loro pressioni, abbiamo creato diverse situazioni, peccato perché dovevamo assolutamente fare un altro gol, ci abbiamo provato, abbiamo avuto delle occasioni anche molto clamorose, quindi la squadra si è applicata tantissimo oggi, ha fatto tutto quello che doveva fare, purtroppo su quell'angolo siamo rimasti un attimino forse impreparati, ancora non l'ho rivisto, ma qualche situazione al di là della bravura loro c'è stata. Abbiamo avuto la nozione clamorosa con Schenetti da solo davanti al portiere, ma anche altre situazioni con Brunori che potevamo chiaramente andare in doppio vantaggio, la partita l'abbiamo fatta bene perché abbiamo concesso veramente poco, mi ricordo del Monza qualche colpo di testa magari dentro l'aria, ma niente di preoccupante, penso che Borro abbia fatto pochissimi interventi, quindi merito ai ragazzi perché sono stati applicati, sono stati bravi, però peccato ancora per il risultato perché ci tenevamo a cercare di vincere la partita, ci proveremo col Fordenone. Lo sai, io non amo parlare di queste cose, purtroppo ne abbiamo già detto in altre occasioni, lo lasciamo fare agli altri, tanto quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, io devo valutare la prestazione dei ragazzi, stasera ci mancavano diversi giocatori e quelli che hanno giocato hanno fatto secondo me un'ottima partita dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista della prestazione e anche dopo quel rigore hanno avuto una reazione importante, potevamo vincere la partita e siamo stati poco fortunati, purtroppo dopo il rigore si è giocato veramente poco, la cosa più che altro è quella, non è tanto l'errore nella valutazione che quello ci può stare, ma è il fatto di aver fatto giocare veramente poco e questo non deve succedere. Però rimane un'ottima reazione dei ragazzi, rimane una buonissima partita, su questo campo è difficile giocare per le condizioni del terreno e loro nonostante questo secondo me hanno dato una dimostrazione di voglia, di carattere. Il nostro campionato è aperto, apertissimo, abbiamo ancora delle partite che ci possono portare in alto, dobbiamo sicuramente continuare a lavorare, continuare a credere in quello che facciamo e i ragazzi stasera hanno dato dimostrazione che ci credono.